Servizi alla cittadinanza a portata di un clic, il Comune di Montoro ha presentato il piano per la digitalizzazione degli uffici di Palazzo dell'Annunziata. Avviciniamo l'utilizzabilità dei servizi, quindi cerchiamo di rendere la vita del cittadino quanto più semplice possibile nei termini della relazione con la pubblica amministrazione. L'abbiamo fatto attingendo a fondi del PNR, conti complessivi, ci sono un investimento di circa 350.000 euro. Il punto di accesso per la transizione digitale per il cittadino è semplicemente il sito istituzionale del Comune di Montoro. La procedura sarà andare su siti tematici del Comune di Montoro e da lì possiamo andare sia sull'ANPR per la gestione autonoma dei certificati, sia sullo sportello telematico per poter presentare le istanze su vari procedimenti amministrativi, sia sul portale delle prenotazioni per poter prenotare un appuntamento al Comune di Montoro. C'è associata anche un'app, si chiama Municipium. I cittadini potranno andare sul sito istituzionale del Comune di Montoro e li troveranno il link per poter scaricare l'app.